In giro per l'Italia? Tutta Italia, Shanghai, per far conoscere la Cina i posti turistici più belli, giusto? Sì, vediamo l'anno prossimo viene tante gente cinese. Tu come ti chiami? Yan. Yan, per quale agenzia lavora? Per un magazzino, un'agenzia in Cina. E il posto più bello qual è che hai visto in Italia? Fino adesso? Sì. Futura più antica sono stato la Sicilia, Silagusa. E' qua Positano? Positano, molto bello. Positano, molto bello. Quindi la consigli Positano alla costiera? Per vacanza, Positano, prima scelta. Prima scelta, grazie. Grazie mille, è veramente in gamba per Positano News. Grazie mille. Grazie mille.